Grazie mille, grazie mille. Allora, Laura, sempre e comunque, perché è giusto che sia così, dobbiamo salutare i nostri amici che in questo momento stanno prendendo una bella tazza di cioccolata calda, vi invitiamo da casa e quindi noi la prendiamo dopo questa cosa. Benissimo. E tu rimani perché so che c'è qualche altra cosa che ci fai appunto sentire questo brano che è davvero complicato, che è finger cycle picking, quindi alla chitarra, sempre Matteo Pellegrino. Grazie mille. Complimenti, complimenti.